Ciao, buongiorno a tutti, sono Luca Lombardi, un influencer di Napoli. Questo qui è il mio stile, capotto, doppio petto, piedipull, sartoriale napoletano, fatto da me. Io ho anche un brand di cravate, Luca Lombardi Napoli, collo alto verde sotto bosco, pantalone bianco e polacchina moro. Questo è il mio stile. Ciao, buongiorno a tutti.